Siamo al Roma Dance Show, alla Fiera di Roma, oggi è il 10 maggio 2014, grande evento dedicato alla danza, agli appassionati di danza, ci sono giovani e meno giovani, quello che è appunto una forma d'arte, anche uno sport, perché no, è anche una competizione tra le più amate non solo nel mondo ma anche in Italia. Abbiamo intervistato prima l'organizzatore principale, Luca, appunto che ci ha illustrato quello che è il grosso modo il programma e il concert di questo grande evento, è il primo che si svolge qui a Roma e tra poco andremo in giro nei vari padiglioni, ce ne sono tre in particolare, e ogni padiglione abbiamo detto appunto ha il suo grande palco, il suo grande palcoscenico dove si esibiranno ragazzi e ballerini di ogni forma. Quindi ricordiamo ancora anche il sito ufficiale showon.it e chiudiamo per il momento inquadrando quello che è qui il volantino della Roma Dance Show alla Fiera di Roma, che ricordo c'è anche l'11 maggio, cioè domani domenica, festa della mamma, venite qui a vedere un po' di musica e di ballo. Ciao a tutti!